L'olivicoltura è il settore primario dell'agricoltura calabrese con 160.000 ettari ulivetati, oltre 70.000 biologici e addirittura con la seconda produzione del paese. E la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, sta mettendo in campo tutta una serie di azioni per la tutela e valorizzazione del sistema olivicolo. Abbiamo, dopo un accordo con il CREA, avuto il nuovo piano olivicolo calabrese, che è il piano regolatore per quanto dovrà essere fatto nei prossimi anni. Con fondi PSP 23-27 investiremo 50 milioni di euro per un rinnovo varietale con sistemi di coltivazione più moderni. Con un'efficace azione di promozione, finanziando il consorzio IGP, abbiamo sostenuto il nostro olio in questi anni e lo sosterremo, ad esempio attraverso azioni come quella del marchio unico dell'olio IGP calabrese. E poi tutta una serie di altre azioni collaterali per valorizzare un sistema che dovrà puntare sempre più sulla qualità per avere prezzi di produzione che riescano a soddisfare i nostri produttori.